Quest'anno siamo al CIGEP con alcune novità, come di consueto del CIGEP per noi è un'opportunità importante per entrare in contatto con i nostri clienti e con potenziali nostri nuovi partner. Una vetrina importante che abbiamo affrontato quest'anno presentando due importanti iniziative. La prima è rilanciare la nostra gamma dei cosiddetti classici italiani, dove l'obiettivo che ci siamo posti è quello di reinterpretare la storia dell'espresso italiano, attualizzandolo, riproponemolo con codici contemporanei e riteniamo innovativi. Questo sicuramente per noi rappresenta il palcoscenico ideale per poter fare questo. Oltre a questo stiamo presentando il completamento della nostra gamma Terra. Terra per noi è il pilastro del nostro progetto di Corporate Sustainability, quindi parliamo di sostenibilità legata ai temi del caffè, tema sempre più attuale e contemporaneo perché, come sappiamo, è una delle sfide che dovremmo affrontare nel prossimo futuro. Lo facciamo collaborando con CIGEP, lo facciamo attraverso anche il nostro progetto Baristan Farmer, dando appunto spazio e voce ai baristi che sono attori e protagonisti di questo progetto. E riteniamo ancora una volta che avere contatto e dialogo con loro possa essere probabilmente l'unico modo per poter arrivare al consumatore finale trasferendo in maniera corretta i messaggi che ovviamente sono fondamentali per rendere credibili i nostri progetti. Grazie a tutti. Grazie a tutti